Amici Nerazzurri, benvenuti a una nuova puntata di Inter Music Show dedicata alla mia playlist. Andiamo subito a sentire le posizioni dalla 10 alla 5. Cos'è che devo dire? Inter Music Show. Cioè non è che bisogna fare il fatto bene. Come è difficile. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.